eccoci qui nuovamente con resident evil 5 e iris ciao e speriamo appunto la connessione regga si preghiamo c'è molto disagio preghiamo preghiamo un momento che abbassa anche il volume della tele non come prima e già c'è del bisogno giù valentine ho appena realizzato che cosa c'è non spoilerare perché nessuno lo sa mi dispiace ti chiamano urgentemente mi sembravi un po era sola mazzotti di disano che prese il gioiello era una bestia no quello in alto intendevo no ho preso solo la bestia dovrebbe essere c'era qualcuno che svegluccica però uno l'ho preso ma mi pare fossero due una mazza ma allora era solo quello che ho preso prima vedo altro vabbè amene si grandissimi e adesso ci sono i nostri migliori amici e mi ci 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 a madonna che inquietante una limitazione ci voleva anche le foto con della zampa sul pavimento però vabbè c'è la povertà e non non si può ci accogliamo grazie grazie per aver condiviso con me le tue insomma cartucce ma non lo usi tu certo ti difenderà costo grandissimo spalle per documenti e bozzetti cosa sta roba no leggi documento anche no grazie per avermi chiuso la porta in faccia fatti connotati credo di non averlo fatto apposta credo forse ne sono sicura vedi che non è ecco non stavo mettendo la mappa una cazzin dopo l'altra proprio io voglio spaccare tutto voglio spaccare tutto ok ma è ancora che mi si chiude la porta in faccia adesso si sente una donna realizzata esattamente ora che ho spaccato tutto ha realizzato lo accenderò certo però non computer della nasa quello che non abbiamo noi scrivere non ce ne frega niente grazie rivederci cosa sarà mai successo ciao iris a fare un giro turistico invece non mi scorderò mai una volta su play 3 che giocavo con online con gente a caso siamo arrivati quali aveva tipo il completo zebrato a un certo punto e dico piano 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 quatta quatta cominciano a partire razzi piano piano niente ha cominciato a lanciarazzi infinito è stato un momento indimenticato voglio ucciderti proprio non lo so io chiamerò il bwf ho deciso e anche te ci sparo proprio dietro senti ciccio io non ho fatto un rumore e poi anche perché abbai perché che rabbi muori perché non gli succede nulla posso girare l'angolo e trovarmi in defense e a quanto pare è morto ok puoi usare la tua puoi usare la tua e abba aspetta ferma ferma grazie per me a fare sul sicuro regalo queste grazie indispensabili soprattutto in situazioni del genere non avevo neanche gli occhi per piangere però fa il tuo dovere donna guardate sfruttamento delle donne collegiadria e armonia ecco arriva lui che cosa c'è qua qualcosa che a me non interessa neanche me vabbè cos'era accolto da me ammunicino per la pistola attenzione le ultime parole famose di scema non ne posso più portare meno male non ce ne sono più ah no cosa mi hai dato? ammunicini per la pistola scusa ma ma io non ho mai capito questa roba qui a cosa serve? a fare luce oh ma guardateli lì da sopra eh sì perché sono dall'altro lato eh ma perché dovresti fare luce e chi se ne frega no? non farti queste domande insomma ma perché? perché? eh ma perché me lo sono sempre chiesto a te schiacci sì vabbè scegliate looks però chi se ne frega un attimo un attimo un attimo au ok possiamo andare piano piano io la metto qui anzi no la metto più avanti apri piano non so se si sente il fondo di mia sorella eh senti qualcosa? senti rumore? cosa devo sentire scusa? rumore di phone no a parte che io ho il phone praticamente forever cioè la mia playstation che fa sempre non so cosa ho preso ma ho preso delle cose sicuramente dai che i primi sono esplosi male aspetta che ti do ti regalo della aspetta ti do aspetta che sta arrivando gente sono un millimitro da te e non mi ti fai dare le cose vabbè questi qui che è arrivato di pontano hai lì mortacci tua buccia aspetta stanno arrivando eh ancora? eh sì volevo darti grazie grazie ma no ma perché hai sempre la raccolta automatica? ma perché sono un millimitro da te e non mi fa dare le cose? mi sto alterando, vieni qui per favore e non mi fa dare le cose perché non mi fa dare? perché devi l'inventario pieno ma che cazzo quello che ha chiuso la porta perché ha detto no molto molto bene tieni ci siamo? ok non volevo consegnare, volevo usare ho fatto tutto per contare di quello che il mio cervello perché la cosa non mi sorprende? perché ultimamente giri dal nostro lato è un problema questa cosa qua ma non è, non mi capita solo con i videogiochi va bene no 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 non abbiamo pigiato prima e quindi dobbiamo aspettare sta arrivando qualcuno adesso cosa facciamo? sta arrivando la nostra gente arrivano mille ma perché non l'abbiamo fatto prima? madonna ma hai visto quanti sono? perché non l'abbiamo fatto? guarda che è morta Che! abbiamo un problema Morishi risu ma perché praticamente sparargli con questo fucile e come farli una caretta? Ho visto un po' di lag Ce n'era uno fermo che scivolava Ok Ok è morto Bene Cioè è arrivato veramente Tutto l'esperimento Vabbè Non è rimasto nessuno Sì L'associazione Liter Uniti Venivano a protestare Adesso c'è il tuo amico Chi è il mio amico? Perché ho preso tutte ste robe io? Ragno gigante Arriverà a breve E cosa desideriamo? Tu hai ventordicimila munizioni Per il fucile a pompa Ne hai ventordici Nel caricatore Altri puoi fare la tua parte O no Ma non vale niente il fucile a pompa Contro questo qua Per fargli aprire la boccuccia Come si chiama Non gli si può tirare anche la granatina in bocca? Sì ma prima devi insomma assordirlo Devi sparare ai punti deboli Sono circa decenni Che non faccio questo pezzo regolarmente Guarda Questo significa che Joe potrebbe essere qui O freddo Tutti quelli sono esperimenti Andati a male È scaduto Sì E quindi Bosciaone Ovviamente lui già sa cosa pigiare Cosa fare Vabbè Cerca sua moglie Dai su Invece è surprise Surprise Attenta Disagio incoming In 3 Non era quel boss No mi sa che non Ah no Oh mamma ce l'ha schivata Attenzione Perché fai queste domande Che esceva Mi sono vista morta Anche io Che cosa gli lanciano questi? Intanto gli spariamo Che cavolo ho fatto Accrepio Eh Ossamente Oh che bell'erba verde Ma lui non ce la faccio Oh Ma no Ce l'ho vuoto il ciclo di precisione Oh E adesso che così? Eh Gli diamo da mangiare Mi spara i punti deboli Gentilmente Io non ho più cartucce Veramente Non dovrebbero sponare Le granate Oppure ce ne dà in automatico Oh eccola Ando qua Metti di muoverti Non posso fare niente io Ok Il suo cervello È morto? No Ciao bene Chiama i suoi amici Mamma mia Non ero pronta Vado a cercare un'altra granata Adesso ci sono Cagare le cose Non me lo ricordavo C'è il mio Ahia Eh vabbè Dov'è la granata Che mi spetta? Ma Mamma mia Mamma mia Ho visto la morte In faccia Ce l'ha una granata? Ce l'ha una granita? No E se la trovi tu in giro Sto sparando Sto sparando Aspetta che faccio un tour Non c'è una macca Non c'è una macca Non c'è una macca E non c'è una macca Forse dobbiamo fare questi cosini Ah ma perché Ma perché ne ha dato sta botta? Niente Non ce la fa Scema Non ce la fa È chiaro La marda E la bestia Ascolta Alzati Alzati Cammina Ci sto spasciando Eh vabbè Eh sì Rivediamo pure i neri E le pareti E le cose Non me l'aspettavo Guarda sono qua Oh Gesù Oh Gesù Cura 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 Oh mio Dio Eh vabbè Eh va bene Hai rotto Hai rotto Io non ho la granata Fai un giro No non c'è niente Che bello Ancora muore Che strano però Un giro Un giro Attenzione Uh eccola Eccola Vai Un attimo Gli ha detto Omane 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 Oh Oh Abbiamo partorito Mamma mia Ma dove si è remessa La pistola Che ha fatto E adesso E adesso Surprimese Surprimese Boing Boing È il momento di ottenere delle risposte 5, 2, 5, 3 e poi gli ultimi due capitoli sulla nave Vabbè poi ci sono anche di LC Comunque io vado a chiudere la porta perché mi sento un casino di là E gli diamo appuntamento al prossimo episodio Ma tanti Bye bye